Ok, quindi in questo terzo blocco andiamo a considerare le domande di teoria sulla programmazione in Python, quindi la terza domandina che compare normalmente nella parte delle domande di teoria, dove appunto è separata rispetto all'esecuzione del programma, cioè il programma è un esercizio da svolgere, mentre questa domanda è più di teoria sulla programmazione, quindi sugli algoritmi, sui diagrammi di flusso, sulla sintassi del linguaggio Python, sull'utilizzo di alcuni tipi di strutture di controllo, di strutture dati e cose di questo genere, quindi le chiamo domandine di teoria perché se uno sa programmare queste domande qua sono relative a nozioni che sicuramente conosce, si tratta solo di spiegarle. Allora, anche qua, partiamo anche qua partendo dal fondo, quindi dalla domanda numero 46, qui i numeri non sono rispetto agli altri, sono diversi perché magari ci sono alcuni temi di esame in cui ci sono due domandine di un tipo, una dell'altro, viceversa, quindi non abbiamo esattamente il stesso numero di domande, poi magari nel fare copia e incolla qualcuna l'ho anche saltata, magari perché era brutta o perché era duplicata, ma vabbè, abbiamo queste, 46, come si può determinare se una stringa sia trasformabile in un int? Quindi domanda numero 46, quindi ho una stringa, come si può determinare se una stringa sia trasformabile in un int? Allora, innanzitutto cosa vuol dire se sia trasformabile? Ok? È trasformabile una stringa, è trasformabile in int, se contiene la corretta codifica di un numero intero, e si può convertire con la funzione int di s, e questo va bene, però non mi chiede come fare convertirlo, mi chiede come faccio a capire se è trasformabile in int oppure no, quindi ad esempio 37 sarà trasformabile, è ok, ad esempio meno 18 è ok, mentre invece 3t no, e così via, 18 meno neanche, e quindi mi chiede come faccio a sapere da una stringa se è trasformabile o no, quindi avrei due possibilità, la prima, stupida, sconsigliabile, analizzare la stringa e verificare i caratteri contenuti, quindi deve iniziare con più, meno, oppure 0, oppure una cifra, dallo 0 al 9, e continuare con una sequenza di cifre dallo 0 al 9, senza altri caratteri, quindi posso andare a fare una serie di controlli, primo carattere, secondo il terzo, può avere eventualmente spazi, pazzi, pazzi, all'inizio o alla fine, all'inizio o alla fine, ma non in mezzo, no? E quindi faccio tutta una serie di controlli sulla stringa, oppure, la versione preferibile, provare a fare la conversione, e controllare se si verifica un'eccezione. E questa è la cosa più semplice, perché questo punto significa chiedere alla funzione int, convertilo, se poi la funzione int non riesce a convertirlo perché c'è qualche carattere sbagliato, gentilmente ce lo dice e ci genera un'eccezione dicendo guarda che non sono riuscito, e quindi di fatto sarebbe una cosa del tipo, in python scriviamo try, numero uguale int di stringa, except, number format exception, se non sbaglio, si chiami così, e in questo caso dirò che è non convertibile. E quindi eseguo la conversione sotto un blocco try, except, che mi permette di accorgermi, catturare, definire, potrei mettere ad esempio un mio flag ok uguale a falso, se la conversione avviene correttamente, metto ok uguale a vero, altrimenti, beh, non serve a niente, ma ripetiamo ok uguale a falso, e così alla fine, qui in funzione, che sia ok o no, posso dirti se la conversione ha avuto successo oppure no. Quindi, in questo caso, ovviamente la funzione int farà lei tutti questi controlli che abbiamo detto prima, ma li fa lei. E a noi arriva semplicemente un'informazione, è andato bene e quindi c'è il valore di n, è andato male, e quindi ho un flag che mi dice che è andato male. Diciamo così, come risposta a questa domanda, mi sarebbe bastato per dire questa parte qua, dicendo guarda io, in questo caso farei così. Se fosse stata scritta la prima risposta, sarebbe stata comunque contata, ecco, se uno mi avesse detto, il modo giusto è questo, io avrei un pochino sotto il naso, non è sbagliato, perché alla fine arriva il risultato, però non è sicuramente il modo consigliabile di procedere. Nel caso dei numeri interi, tutto sommato, posso sforzarmi e farmi la piacere, però comunque sono dieci righe da scrivere, quando ne basta una. Se immaginate la stessa cosa sui numeri reali, i controlli che dovete fare sarebbero veramente complicatissimi, perché c'è l'esponente, c'è il segno dell'esponente, il numero, la parte frazionale, che può essere presente oppure non presente, eccetera, ci sono molti controlli in più da fare, quando in realtà andare a catturare le sezioni della funzione int o della funzione float, invece non mi costa nulla. Quindi diciamo così, non avrei dato il punteggio pieno se uno mi avesse detto che il modo giusto di procedere è questo. Ok. Andiamo alla 46, andiamo alla 45. Nella gestione delle sezioni, quando è eseguita la clausola except, aggiungere un breve esempio esplicativo in Python. Ok, quindi una seconda domanda, questa sulle sezioni. 45. Quindi l'except, viene eseguita da quando una delle istruzioni nel blocco try genera un'eccezione del tipo specificato nell'except. Ad esempio, se io faccio try f uguale open abc.txt except oserror allora file non trovato, ad esempio. Quindi in questo caso viene eseguito questo blocco except quando l'operazione di apertura non trova il file non riesce a aprirlo per qualche motivo. Però ad esempio se io scrivessi qua x uguale 1 su 0 che mi genera un'eccezione di tipo division by 0 se non sbaglio questa eccezione non viene catturata dal blocco except perché la blocco except cattura solamente eccezioni di tipo oserror per quello che io ho detto qua del tipo specificato. Questa qua viene catturata e viedo vado in except mentre quest'altra istruzione genera un'eccezione non catturata e quindi si propaga e termina il programma. quindi il blocco except viene eseguito quando nel blocco try corrispondente una delle istruzioni che eseguiamo genera un'eccezione ma solamente un'eccezione della tipologia che io sto catturando con l'except tutte le altre vengono ignorate. poi 44 quali sono le caratteristiche principali dei set in python quali sono le differenze fondamentali tra liste e insiemi quindi 44 parlo di insiemi vedrete che ci sono parecchie domande che si divertono a chiedervi cose sugli insiemi allora un set in python cosa sono? è un contenitore il contenitore è mutabile quindi posso aggiungere e togliere elementi dopo che l'ho creato i valori contenuti devono invece essere immutabili e in particolare possono essere solamente stringhe numeri interi o reali tuple questi sono i tipi di dati immutabili che conosciamo non ammettono duplicati e posso compiere le normali operazioni semistiche non è ordinato l'interazione avviene in un ordine arbitrario arbitrario nel senso che decide lui in che ordine presentarmi gli elementi quando ci faccio un'interazione queste sono le caratteristiche essenziali le caratteristiche principali dell'insieme in python quali sono le differenze fondamentali tra liste e insiemi la differenza fondamentale sono due liste sono ordinate set non ordinati le liste possono avere duplicati elementi duplicati set no e poi la terza differenza è che la lista è mutabile mentre invece i set sono immutabili le liste i set sono entrambi mutabili quindi non è un problema contengono elementi contengono qualsiasi tipo di elemento invece i set solo gli mutabili solo valori che siano immutabili d'altra parte i set sono molto ottimizzati nelle operazioni di ricerca quindi il link il contains eccetera su un set è un'operazione istantanea mentre su una lista per come è costruita invece richiede che si vadano a vedere tutti gli elementi delle liste ok questa è la 44 andiamo al 43 descrivere il costituto tra except e motivare la risposta con un brevissimo esempio quindi 43 in realtà la 45 era già la stessa cosa della 43 quindi con parole diverse quindi mettiamo anche che la risposta la 43 è questa che ci dice cosa succede dentro un blocco try quindi andiamo avanti 42 in un insieme di python e un set quale caratteristica fondamentale deve avere il tipo di dato memorizzato l'abbiamo detto nella domanda 44 che deve essere un dato immutabile quindi questa 44 vale anche per la 42 quindi possiamo passare alla 41 come si può fare in python a convertire un carattere numerico in intero questa è una domanda specifica 41 mi dice che io ho un carattere un carattere numerico e lo voglio convertire in un intero quindi supponiamo io la leggo così io ho una stringa che contiene un carattere tipo 7 e voglio ottenere il valore intero corrispondente allora il modo più semplice sarebbe questo chiamo la funzione int che prende la stringa se contiene un solo carattere numerico mi darà il valore numerico corrispondente ok da non confondere quindi int c mi dà il valore 7 da non confondere con ord dc che è un'altra funzione che prende un carattere e mi restituisce un codice numerico perché in questo caso mi darebbe il codice asci del carattere che nel caso del 7 è 48 più 7 sarebbe 55 che non è detto che non mi sembra che sia ciò che chiede la domanda la domanda è un po' ambigua convertire un carattere numerico in intero ma in intero di che cosa cioè quello che ha lo stesso valore mi sembra la cosa più naturale però uno potrebbe dire l'intero corrispondente al codice asci allora in questo caso lo faccio con la funzione ord e non con la funzione inter ord sta per l'ordine all'interno della tabella dei codici questo però direi non dovrebbe essere no no dovrebbe essere questa ovviamente questo ha senso mentre l'ordine alla tabella asci va bene per qualunque carattere voi vi inventiate int funziona solamente per caratteri che sono effettivamente dallo 0 al 9 qualunque altro carattere abbiamo visto da un'eccezione oggi era un'eccezione domanda 40 quali sono le differenze tra lista e set le abbiamo già citate nella risposta alla domanda 42 quindi anche questo lo aggiungiamo alle numeri che abbiamo già trattato in particolare la seconda parte della risposta citava le differenze principali 39 in una funzione python qual è la differenza tra argomenti e valori restituiti quanti argomenti può avere un'efficacia di funzione e quanti valori può restituire una funzione ok quindi ci sono tre sottodomande su questa qua allora 39 vediamo un po' come possiamo articolarla allora una funzione no riceve degli argomenti argomento 1 argomento 2 eccetera eccetera e poi fa operazioni fa cose e prima o poi fa un return del risultato no quello che viene detto la differenza tra argomenti e valori restituiti i risultati restituiti attraverso l'istituzione return allora che differenza c'è che gli argomenti sono innanzitutto dei riferimenti a valori diciamo valori provenienti dalla chiamante cioè dal main ok o dei valori vengono passati alla funzione probabilmente dal chiamante e inviati alla funzione nel caso in cui siano sotto che forma sono inviati alla funzione sotto forma di alias sinonimi nome locale che fa riferimento allo stesso oggetto posseduto dal chiamante poi sappiamo che nel caso in cui l'oggetto posseduto dal chiamante fosse un oggetto immutabile come una stringa o un numero il fatto che sia un alias è irrilevante non ce ne accorgiamo ma nel caso in cui fosse una struttura data immutabile come una lista o un dizionario allora devo fare attenzione che sto modificando un dato che non è mio ma è del chiamante e quindi va queste qui sono delle variabili dei valori che vanno dal chiamante alla funzione al chiamato mentre il risultato è invece il valore calcolato che dà la funzione e che viene trasferito al chiamante come alias di una variabile locale di un valore locale il quale il valore locale viene subito viene distribuito viene dimenticato quando la funzione termina quindi io ho una variabile locale della funzione che qui in questo codice sopra si chiamava risultato quando faccio il return il valore associato attorno alla funzione chiamante la variabile risultato però muore perché la funzione è stata definita dentro una funzione e questa funzione ha terminato è ritornata al suo chiamante quindi muore anch'essa ci chiedeva quanti argomenti può avere una funzione una funzione può avere un numero di argomenti cione può avere avere 0 1 o più argomenti è anche possibile che alcuni argomenti possono essere opzionali quindi l'utente potrebbe non specificarli se viene fornito un valore di default ok quindi ha def numero complesso ad esempio che riceve una parte reale e una parte immaginaria per default uguale a 0 quindi se questa funzione la chiamo con un valore solo lei mi prende parte reale e parte immaginaria e l'immaginaria la mette a 0 perché manca il secondo argomento oppure la posso chiamare con due argomenti una parte reale e una parte immaginaria qui complesso di 1 1 mi darà il numero diciamo così 1 più i di cui la parte immaginaria l'ho specificata io se non la specifico la prende uguale a 0 ad esempio mentre invece il risultato il risultato è uno solo calcolato è uno solo ma può ma se servisse per trasferire più valori si può costruire e restituire una tupla o una lista contenente i valori richiesti e quindi abbiamo una cosa del tipo return abc ad esempio che restituisce non tre valori a e poi b e poi c ma restituisce un'unica tupla che però mette insieme i riferimenti ad abc che poi il programma chiamante potrà andare a spacchettare e estrarre i tre valori si può scrivere così o si può scrivere con la parentesi tonda è uguale dipende come preferite vederla con la parentesi tonda è più esplicito si vede meglio che stiamo costruendo una tupla con return visto che le parentesi tonde non è la parentesi nella versione sopra questa tupla c'è lo stesso ma si vede meno e ci sembra quasi di più diciamo così sintaticamente più evidente che vogliamo trasferire valori diversi ma il meccanismo è sempre lo stesso ovviamente solamente una piccola differenza sintattica questo per la funzione 39 quanti problemi direi che abbiamo risposto a tutto 38 è possibile usare una lista come una chiave di un dizionario python e una tupla rispondere sì o no ci mancherebbe motivando la risposta quindi 38 se io ho un dizionario la chiave di un dizionario deve essere un tipo di dato immutabile e deve essere immutabile perché se poi cambiassi quel valore non è più detto che riesca a ritrovare la chiave all'interno del dizionario e quindi quindi di conseguenza lista no è possibile usare una lista come chiave di un dizionario no tupla sì se vogliamo la differenza fondamentale tra la lista e le tuple se ne vogliamo ce n'è una sola differenza tra liste tuple proprio che le tuple sono immutabili mentre invece le liste sono mutabili e quindi questa è la differenza chiave tra le due che fa sì che la seconda possa tranquillamente essere usata come una chiave in un dizionario o essere messa in un insieme le regole per le chiave del dizionario sono le stesse regole per gli elementi dell'insieme mentre una lista invece assolutamente no la motivazione della risposta è appunto perché è questa cosa sopra cioè la chiave in un dizionario deve essere un tipo di dato immutabile e quindi solamente le tuple sono immutabili tra questi due tipi di dato 37 come si può fare in python a convertire una stringa in maiuscolo questa è facile 37 convertire una stringa se io ho una stringa data una stringa a s posso convertire in maiuscolo usando s uguale s.huppert aperta e chiusa tonda vi ricordo che durante l'esame questa è una parte di domande di teorie ma comunque nella procedura di esame avete sia il pdf con tutte le funzioni tra cui c'è anche questa sia l'accesso al sito l'unico avete tutto internet bloccato tranne un unico sito che potete accedere che è docs.python.org dove c'è tutta la documentazione ufficiale della libreria di python quindi se non vi ricordate il nome di una funzione questa app probabilmente ce la ricordiamo tutti ma se non vi ricordate il nome di una funzione o esattamente come funziona lo potete andare tranquillamente a controllare attenzione che le risposte sbagliate quale potrebbero essere sbagliato sarebbe dire s.upper perché scritta solo così cosa fa? prende s ne fa la versione maiuscola e poi la dimentica non la salva da nessuna parte mentre la domanda mi dice voglio convertire una stringa in maiuscolo quindi voglio che la stringa a questo punto abbia il valore modificato maiuscolo non semplicemente lo calcolo e lo butto via e l'altra cosa sbagliata anche non credo che la sbagliamo ma a volte poi capita nel codice scriviamo pure giusto così dimenticare le parentesi tonde ma questo tra l'altro crea dei problemi abbastanza diciamo così antipatici da debuggare perché l'errore che otteniamo è un errore un po' strano perché quello che stiamo facendo è mettere dentro s il riferimento alla funzione upper perché senza le parentesi tonde la funzione non viene chiamata non viene invocata quindi rimane semplicemente il nome della funzione quindi s diventa una funzione e quindi quando cerco di giocarla come stringa otterrò gli errori più fantasiosi perché chiaramente una funzione non può comportarsi come stringa quindi ricordiamoci sempre tre volte che una funzione anche che non ha argomenti oppure un metodo anche che non abbia argomenti le parentesi tonde sono sempre obbligatorie non è un errore di sintassi né l'una né l'altra quindi non vi verranno segnalati dal compilatore perché è lecito fare un calcolo e buttare via la risposta è lecito salvarsi il riferimento ad una funzione ma se ovviamente più avanti so che la uso come funzione e non penso di usarla come stringa e questo tra l'altro è la base della programmazione funzionale che noi non vediamo ma è un livello di programmazione in più che Python supporta nativamente 36 cosa succede se dopo aver costruito questo insieme Python colori viene eseguita la riga di codici print colori di 2 motivare la risposta allora codice 36 andiamo a vedere noi abbiamo creato un insieme abbiamo delle stringhe bianco giallo verde rosso viola sono stringhe queste stringhe le mettiamo in una lista ok la prima operazione che facciamo è creare una lista che contenga 1 2 3 4 5 stringhe va bene poi questa lista viene passata alla funzione set quindi la funzione set costruisce un insieme e mette dentro un insieme gli elementi della lista controllando che questi elementi siano immutabili altrimenti da errore e questi sono 5 stringhe quindi vanno bene perché sono immutabili ed eliminando eventuali duplicati in questo caso non ce ne sono i duplicati quindi sto costruendo un insieme che contiene questi 5 stringhe che sono nomi di colori ok sono 5 da 0 a 4 non possiamo dire quindi questa costruzione è un set questa istruzione funziona correttamente colori sarà un insieme che contiene 5 stringhe adesso colori di 2 print allora 2 è un numero colori è un insieme colori di 2 che cosa fa? allora colori di 2 non prende il secondo elemento dell'insieme perché non esiste nulla che sia chiamabile primo, secondo terzo elemento di un insieme gli insiemi non sono ordinati e quindi non posso accedere per posizione di un elemento di un insieme quindi la print non viene neanche eseguita perché l'operazione stessa di accedere a colori di 2 genera un'eccezione non mi ricordo a memoria che tipo di eccezione genera ma di sicuro è un'operazione vietata quindi l'istruzione genera eccezione perché colori è un insieme e non è possibile accedere per posizione agli elementi di un insieme poi in realtà questa domanda è anche più facile perché io in questo momento non l'ho aperto ma se voi aveste aperto python nell'ultimo tab del vostro browser basta provare a scrivere incollare quell'istruzione dentro l'interprete di python e vedere che tipo di errore ti da e cercare anche di capire perché te lo dà ma avrei anche potuto scrivere quale eccezione viene generata adesso in questo momento non me lo ricordo a memoria non lo scrivo ma è facile da verificare quindi cosa succede genera un'eccezione perché perché un insieme perché colori è un insieme e non è possibile accedere agli elementi di un insieme attraverso la posizione insieme viene costruito correttamente non c'è problema il problema è solamente questo accesso qua l'accesso via parentesi quadra a un set è vietato ricordatevi sempre la domanda io cerco sempre di ribadirlo qui in questo caso mi chiede due cose cosa succede e perché e verifico che nella mia risposta abbia detto entrambe le cose cosa succede genera eccezione perché perché colori un insieme è impossibile accedere per posizione ok quindi quando scrivete date queste risposte cercate di dopo che l'avete scritto ripassare un attimo se avete risposto a tutti i pezzettini della domanda 35 spiegare brevemente la differenza tra liste insieme in python è una delle domande più inflazionate e quindi andiamo a aggiungere 35 anche a questa qua che avevamo risposto per primi e passiamo alla 34 quali sono gli operatori booleani scrivere un'istruzione python contenente un operatore booleano ok allora 34 che gli operatori booleani sono quelli sono quelli che che fanno calcoli con i valori booleani appunto true e false in particolare sono and or e not li usiamo nelle condizioni complesse o per manipolare informazioni i flag diciamo così un esempio if a maggiore di 0 and a che ne so diverso da 7 fai qualcosa questo è un esempio di un'istruzione che usa un operatore booleano che controlla che a sia maggiore di 0 e contemporaneamente sia anche diverso da 7 quindi questa cosa qua funziona per tutti i valori di a positivi tranne il 7 che poverino sfigato non lo vogliamo per qualche motivo nelle condizioni complesse la condizione complesse è una condizione che mette insieme vari confronti varie comparazioni e le combina con certe regole questa è un'espressione booleana molto molto semplice perché semplicemente ha due valori e li combina in hand uno volendo potrebbe costruire istruzioni anche più complicate ma in questo caso ci chiede solamente un esempio quindi ci possiamo tranquillamente fermare qua 34 la 33 quali sono le principali caratteristiche di un insieme in python e basta è sempre la stessa quindi cioè sempre non è la stessa ma è un pezzo della stessa quindi andiamo a fare riferimento anche qua alla 33 perché anche qua sono spiegati come funzionano gli insiemi poi in questa domanda 33 non è richiesto di parlare su delle liste quindi chiaramente solamente basterebbe un pezzo di questa risposta ma sicuramente non c'è nulla di nuovo 32 nel linguaggio python cosa si intende quando si parla della differenza tra la copia di una lista e un alias della lista stessa fornire un esempio allora questo invece è un tema diverso 32 quindi quando dico data una lista chiamiamola A che ne so mettiamola 1,2,3 ad esempio si intende copia di A scrivo maiuscolo perché così non lo confondo con il testo che scrivo copia di A che cos'è è una nuova lista che però contiene che contiene gli stessi elementi invece un alias di A è una nuova variabile allora diciamolo prima anche bene una nuova variabile che fa riferimento ad una nuova lista che però questa nuova lista contiene gli stessi elementi di A un alias di A invece è una nuova variabile che fa riferimento alla stessa lista di A come si ottiene una copia una copia di una lista si può ottenere come B uguale list di A oppure B uguale in altro modo è dammi tutti gli elementi dal primo all'ultimo di A sono i due modi diciamo così più frequenti non sono gli unici ma sono i due modi più frequenti di ottenere una copia se non sbaglio c'è anche una cosa del tipo B uguale A punto copy dovresti anche un metodo copy se non sbaglio ma devo dire che il primo è di gran lungo il più frequente invece ottenere un alias di A significa semplicemente scrivere B uguale A quindi nel primo caso sto creando una nuova lista e sto copiando dentro questa nuova lista gli elementi che già c'erano in A nel secondo caso invece non sto creando nulla di nuovo sto semplicemente dicendo guarda che adesso c'è anche la variabile B che si può usare indifferentemente rispetto ad A perché entrambe puntano fanno riferimento alla stessa lista fisica quindi gli stessi numeri modificando una copia di una lista la lista originale non viene modificata invece modificando un alias di una lista in realtà si modifica la lista originale l'altra cosa scusate sugli alias avviene tutte le volte che ho un passaggio di parametri quindi a volte può capitare che io creo un alias di una lista non perché ho un'assegnazione esplicita di questo genere che tutto sommato non serve a niente dare un altro nome è una cosa che ho già ma quando chiamo una funzione tutte le volte che chiamo una funzione implicitamente avviene un passaggio di parametri e quindi avviene una creazione di un alias del valore che ti passo sulla variabile locale della funzione quindi questo è il caso di gran lunga più frequente di creazione di alias e tutte le volte che chiamo una funzione e gli passo un parametro in realtà sto passando un alias al mio dato mentre la creazione esplicita di alias è abbastanza rara ci chiede di dire altro questo cosa si intende quando si parla di differenza copia è fornire un esempio gli esempi li abbiamo forniti di come si creano se vogliamo possiamo ad esempio qua potrebbe essere l'operazione considerando l'operazione ad esempio b b punto appenda ad esempio di 3 di 7 allora in questo caso nel primo caso modificando la lista originale non viene modificata mentre nel secondo caso si modifica anche la lista mettiamo un anche perché non è che modifico la lista originale modifico tutte e due ma in realtà non è vero che sono tutte e due perché è una sola semplicemente l'ho modificata attraverso b anziché passare attraverso a quindi il significato di questo è diverso a seconda che b l'abbiamo creato come copia oppure l'abbiamo creato come alias ok 31 31 spiegare la differenza tra liste e tuple una funzione può restituire una tupla una funzione può restituire una lista allora questa è facile la risposta è abbastanza sintetica 31 la differenza tra liste tuple e liste sono analoghe cioè sono contenitori di valori qualsiasi contenitori scusate ordinati di valori qualsiasi ordinati quindi posso accedere per posizione posso accedere per posizione e per range quindi anche posso avere del range da 0 a 3 da 2 a 4 eccetera la differenza è che le tuple è che le liste sono mutabili le tuple non sono mutabili sono immutabili quindi le operazioni che modificano la tupla sono vietate non sto dicendo nulla sugli elementi gli elementi che sono dentro una tupla gli elementi che sono dentro una lista possono essere mutabili o immutabili non importa non viene controllato questo elemento viene controllato se la tupla stessa viene modificata cioè aggiungere elementi non si può cancellare elementi non si può rimpiazzare un elemento con un altro non si può però se l'elemento stesso a sua volta ha dei metodi che lo fanno cambiare questo invece si può è un caso un po' un po' raro ma si può non è vietato nelle tuple una funzione può restituire una tupla o una lista o qualunque altro tipo di oggetto quindi una funzione può restituire qualunque tipo di oggetto come regola generale tanto alla fine in confidenza sappiamo che restituisce solamente un alias quindi quale sia l'oggetto non ne frega niente quindi sicuramente una lista quante volte abbiamo fatto il return di una lista tutte le volte che leggiamo qualcosa da un file stiamo facendo il return di una lista e anche una tupla restituire una tupla invece proprio perché non è modificabile quindi è impossibile costruire una tupla in modo incrementale un elemento per volta di solito quando costruiamo una tupla sappiamo già quanti elementi ha e nel caso del return lo usiamo per restituire più valori contemporaneamente come abbiamo visto nella domanda sulle funzioni non mi sembra che questo chiedesse altro differente a liste tuble bastava una parola immutabile sì sì se vuoi restituire una tupla sì e una lista sì poi ovviamente essendoci il verbo spiegare non abbiamo solamente detto una parola o un sì ma abbiamo anche spiegato il perché e istruzione 30 come ci esegue il controllo di flusso in python utilizzando if elif e else fornire un esempio ok sembra di tornare alle prime settimane quindi diciamo che nella condizione if ed elif indicano delle condizioni che determinano la vindica non vuol dire niente scusatemi calcolano delle condizioni che determinano l'esecuzione o meno del blocco di istruzioni blocco associato ad esso ad esser associate blocco associato ci può essere una sola if seguita opzionalmente da una o più elif nel caso in cui nessuna delle condizioni si avvera il blocco else che è opzionale verrà eseguito esempio cosa possiamo prendere come esempio possiamo fare immaginiamo di dover fare dei calcoli su delle figure geometriche quindi che ne sono serati e maggiore di 10 allora dico non ce la faccio troppo troppi lati elif lati minore o uguale a 2 e dirò che non è un quadrilato non è un poligono perché un poligono deve avere almeno 3 lati poverino else posso dire a questo punto è un poligono ragionevole cioè non ha troppi lati una cosa di questo genere magari posso sì quindi quindi if e il blocco corrispondente sono obbligatori e l'if ha una condizione ma è opzionale posso metterlo non metterlo non metterlo più di uno else a sua volta è opzionale posso metterlo non metterlo se c'è c'è una volta sola e else è l'unica parola chiave che non ha una condizione associata perché viene eseguito solo se tutte le condizioni precedenti erano false 30 19 no 29 la differenza tra liste e insiemi è sempre la stessa quindi la 44 questa qua vale anche per la 39 29 possiamo quindi passare alla 28 spiegare il concetto di alias nel contesto di passaggio di parametri della funzione evidenziando se e quando si applica allora questo qua è una domanda che è un po' a cavallo tra quella che chiedeva la differenza tra copia e alias è quella che chiedeva come funzionano i parametri della funzione quindi conviene magari descriverla i concetti li abbiamo già messi però magari la risposta la possiamo provare a scrivere numero 28 quindi quando quando una porzione di programma chiama una funzione passando uno o più parametri la funzione per ciascuno di questi parametri diciamo così viene creata un alias che è ricevuto dalla funzione inizializzando l'argomento relativo che è una frase un po' contorta per dire che se io ho una funzione funs che riceve un parametro x e un parametro y e fa cose poi io posso avere un programma principale che a un certo punto ha due variabili a uguale a 5 e b uguale a 4 e a un certo punto creiamo una funzione col valore di a b a virgola b quindi ci succede che mentre è in esecuzione la funzione x viene inizializzato come alias ad a e y viene inizializzato come alias a b è anche vero che io non sono obbligato quando chiamo una funzione a usare delle variabili singole quindi potrei chiamare la funzione che ne so ad esempio col valore 10 virgola a più 1 per dire allora in questo caso cosa succede? ecco viene creata viene creato l'oggetto o viene creato un oggetto intero 10 e x viene inizializzato come riferimento a tale oggetto in questo caso non posso proprio parlare di alias perché non ho un altro nome cioè la x sarebbe un secondo nome dell'oggetto peccato che questo oggetto non ha un primo nome perché ho semplicemente inserito una costante ha un valore ma non ha un nome quindi sarebbe il primo alias non so se si può dire il sinonimo ma se sono solo io sono un sinonimo? non lo so questa è una questione per un corso di filosofia il fatto è che diventa l'unico riferimento a quell'oggetto lì che è stato creato apposta per poter passare tale riferimento all'oggetto e per quanto riguarda e per quanto riguarda a più 1 anche qui viene calcolato a più 1 e il risultato sarà in un oggetto in un nuovo oggetto il quale il cui riferimento inizializzerà il valore di y quindi il meccanismo di passaggio dei parametri è sempre lo stesso passo un alias a qualche cosa a volte questo alias è un alias di una variabile del programma chiamante allora effettivamente un alias vero proprio due nomi diversi uno dentro la funzione uno fuori dalla funzione che puntano uno stesso valore altre volte quando il valore che viene passato è una costante oppure un'espressione di calcolo allora non ho un alias diretto con un valore esistente ma avrò un alias con un valore di cui nel chiamante non vi è più traccia non vi è più traccia esplicita e quindi in realtà non crea poi più nessun problema perché sono sicuro che il chiamante non ce l'avrà più questo oggetto quindi se quando si applica si applica sempre tutte le volte che chiamo un param perché faccio una chiamata ma in alcuni casi si applica in modo praticamente invisibile nel senso che quest'alias qua questo del 10 non è appunto non è un alias vero perché non è un secondo nome di qualche cosa ma diventa un primo nome della stessa cosa ok eravamo alla 28 la 27 spiegare almeno due approcci per confrontare numeri reali tenendo conto di possibili errori di arrotondamento tenendo conto di possibili errori di arrotondamento allora questa domanda 27 che ci chiede di ragionare sul fatto che se io diciamo così A e B sono variabili float significa che il loro valore è necessariamente approssimato sempre prendiamolo come regalo generale poi ci sono alcuni casi in cui non è approssimato ma dobbiamo ragionare nel caso generale ok alcuni valori tipo 0,5 0,75 che sono appresentati in modo esatto ma già 0,1 0,2 no sono appresentati in modo approssimato quindi non andiamo a impazzire nel cercare di capire i casi particolari nel caso generale sappiamo che qualunque valore mettiamo in una variabile float subirà una perturbazione quindi il confronto se A è uguale a B oppure se A è diverso da B non hanno senso non hanno senso perché sto confrontando due valori che anche se matematicamente dovrebbero essere uguali in realtà non lo sono perché a seconda dei calcoli che ho fatto per arrivarci hanno accumulato degli errori di rappresentazione diversi l'aritmetica non ha precisione infinita e quindi questo è un dato di fatto allora lui mi dice come fai in questo modo allora anziché fare un controllo di uguaglianza facciamo un controllo di uguaglianza approssimata cioè sono abbastanza vicine da poter essere considerate uguali e quindi il modo di fare un confronto potrebbe essere facendo un controllo di diciamo così di errore assoluto controllando se l'errore assoluto e quindi faccio cosa faccio a meno b e vado a vedere se questo a meno b è minore di un certo epsilon che decido io 10 alla meno 3 10 alla meno 4 10 alla meno 8 ovviamente magari non devo fare a meno b ma devo fare il valore assoluto di a meno b perché non so in che verso va a finire l'arrotondamento quindi se epsilon è un errore assoluto io anziché al posto di a uguale b scriverò tutte le volte questa espressione qua dove l'epsilon è il valore che mi scelgo io che per me è sufficiente per considerare due valori uguali oppure se lavoro con numeri che possono spaziare tra ordini di grandezza diversi quindi è difficile definire un epsilon perché un epsilon magari dico 10 alla meno 3 mi basta ho capito ma se a e b fossero 10 alla meno 7 perché sto misurando la massa di una molecola allora 10 alla meno 3 è un numero enorme rispetto a 10 alla meno 7 quindi questo confronto qua non avrebbe più nessun senso sarebbe un epsilon che fa passare tutti camion interi di numeri che sembrano uguali in realtà sono molto diversi allora ha più senso secondo me non secondo me scusate a seconda dei casi ha più senso andare a confrontarci con una variazione percentuale una differenza percentuale tra i due valori e quindi in questo caso vado a confrontare non a meno b in valore assoluto ma lo confronto rispetto ad a oppure a b intanto sono nel caso in cui questi due assumo che siano abbastanza vicini quindi questo è il epsilon relativo è diverso dall'epsilon assoluto quindi nel primo caso mi dice il valore assoluto il delta assoluto che è la mia tolleranza nel secondo caso mi dà di fatto una percentuale siamo più vicini al 5% dell'1% dello 0,02% e questo qua mi calcola la differenza percentuale percentuale frazionaria quindi questi sono due modi possibili entrambi i modi si possono usare usando la libreria standard si possono usare usando mat.disclose a,b che fa esattamente questi controlli per default uno è un controllo di errore relativo se però voglio posso impostare due parametri che sono la tolleranza assoluta e la tolleranza relativa e quindi lo faccio comportare con la tolleranza che voglio io con due parametri opzionali della funzione isclose quindi se lo voglio fare a mia mano me lo faccio così se lo voglio usare la funzione di libreria già fatta lo faccio così e so che questa funzione può essere personalizzata in termini di scegliere se il controllo deve essere assoluto relativo e scegliere quanto valgono questi epsilon che alla fine è il metodo più comodo l'importante è che io mai nella vita faccia mai un confronto di questo genere neanche con 0 se è un numero reale non posso fare confronto if x uguale 0 ok perché quel numero potrebbe essere un numero talmente piccolo da essere assimilabile a 0 ma non viene mai rappresentato come 0 0.0 ok 27 torniamo a 26 discute la differenza tra un parametro formale e il parametro attuale di una funzione allora 26 questa è una questione puramente di nomenclatura quindi io vado a riprendere se non vi spiace questa cosa qua che avevamo scritto prima e dico che chiedo scusa che x e y sono parametri sono chiamati parametri formali mentre a e b sono chiamati parametri attuali cioè perché parametri attuali perché sono i valori effettivi con cui lavorerà la funzione mentre gli altri si chiamano anche parametri formali perché sono solo dei diciamo così nomi interni su cui lavora la funzione diciamo su cui a cui bisognerà associare un valore reale quando la funzione verrà chiamata ok questa è una questione di domenclatura parametri formali e parametri attuali altri invece li distinguono tra argomenti e parametri però devo dire che onestamente non mi ricordo mai quali sono gli argomenti quali sono i parametri tra i due domanda numero 25 in un dizionario python che caratteristica fondamentale deve avere il tipo di dato usato come chiave del dizionario questa in realtà l'abbiamo già scritta perché la chiave del dizionario deve essere un tipo immutabile per essere preciso deve essere hashable che è qualcosa di più di immutabile ma noi non siamo entrati in questo dettaglio perché fa parte della programmazione sono oggetti e quindi ci accontentiamo della definizione immutabile quindi possiamo questo l'avevamo già scritto quando avevamo trattato i dizionari sopra la chiave del dizionario deve essere un tipo di dato immutabile quindi 25 sì 25 ok vediamo un po' la 24 descrive il fenomeno di aliasi in python per mezzo di un esempio sulle liste indicare sempre per mezzo di un esempio sulle liste come effettuare una copia senza aliasi questo diciamo così è il concetto di aliasi è quello che abbiamo già spiegato prima qui non ci chiede di spiegarlo ma di descriverlo attraverso un esempio quindi qui potremmo avere appunto una lista A uguale riprendo più o meno i dati che avevamo nel esercito precedente poi potremmo avere un B uguale ad A e poi potremmo fare un B punto appende di 7 allora allora se facendo print di A avrei 1, 2, 3 ma anche 7 perché l'appende che ho fatto su B in realtà va sulla stessa struttura dati che si chiama anche A è sempre la stessa lista si chiama A ma si chiama anche B e poi lui mi dice indicare come effettuare una copia senza aliasi dovrei fare per evitare l'aliasing dovrei fare potrei fare B uguale list di A oppure gli altri modi che abbiamo già riferito nella domanda precedente sul diagliasi e quindi a questo punto avrei che A continua a essere 1, 2, 3 e B invece è 1, 2, 3, 7 chiusa a quadra esercizio 23 cosa ci chiede quali sono gli operatori booleani scrive una sezione python contenente un operator booleano l'abbiamo già fatto questo 23 abbiamo fatto uno molto simile che era 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 più avanti eccolo qua il 34 e quindi anche questo è il 23 ok allora vediamo cosa si dice il 22 spiegare brevemente la differenza tra liste edizionari in python eh no questa qua l'abbiamo già spiegata tante volte non vado neanche questo qui chiaramente ho vinto il premio di quante volte è stata fatta questa domanda spero che non verrà mai più fatta perché non verrà mai spiegare la differenza tra liste tuple una funzione può restituire una tuple restituire una lista questa invece è identica proprio a a quella che c'era già non me la ricordo più dove fosse vabbè comunque ce la dave non lo sto a scrivere perché a questo punto non lo sto trovando quindi è inutile perdere ah sì 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 la 31 pensavo che ho scritto di meno è 21 anche ok la 20 la differenza tra liste insieme in python dire se è possibile convertire una lista insieme in viceversa con quali effetti questo qua effettivamente ha un pelino di differenza quindi la 20 allora non sto a ripetere per la quindicesima volta la differenza tra liste in python però rispondo a quest'altra parte qua è possibile convertire una lista in insieme e con quali effetti quindi è possibile convertire lista in insieme è possibile convertire insieme in lista sì e come allora convertire la lista in insieme si può fare entrambi le operazioni si possono fare però bisogna fare attenzione a che cosa succede quando le facciamo quindi si può fare solo se gli elementi della lista sono compatibili con essere elementi di un insieme quindi sono immutabili se lo si fa quindi se gli elementi della lista sono immutabili posso costruire un insieme che contenga gli stessi elementi sì con la lista quello che succede è che i duplicati vengono eliminati e l'ordine degli elementi viene si chiama stravolto ma non è che lo faccia apposta stravolgerlo semplicemente viene dimenticato viene trasformato ecco non viene rispettato quindi è importante dire non si può sempre convertire si può convertire solo in questa cosa qua se gli elementi lo permettono e se si può fare automaticamente vengono rigettati i duplicati e ignorato trascurato l'ordinamento che gli elementi avevano nella lista invece per convertire un insieme in una lista si può sempre no non ci può non ci sono dei casi particolari perché il tipo di elemento che posso mettere in una lista è un insieme più ampio dei tipi di elementi che posso mettere in un insieme cosa succede succede che viene creata una lista chiaramente in cui l'ordine degli elementi che mi ritrovo è arbitrario non ho nessun modo a meno che non voglio non voglia io imporre un ordinamento che ne so con la funzione sorte ad esempio ma altrimenti viene fuori un ordine così arbitrario che decide l'insieme quale ordine fornirmi ma a parte questo gli elementi che prima erano insieme vanno a finire in una lista normalmente senza problemi diciamo così spesso si usa sorted per averli in un ordine noto però se non ci serve averli in ordine noto lasciamoli pure tranquilli lasciamoli pure stare tranquilli nell'ordine in cui mi vengono dati dall'insieme domanda 19 qual è la differenza tra un tipo mutabile e immutabile in python e di elencare un tipo mutabile e un tipo immutabile a scelta vabbè questo è un altro modo di dire quello che abbiamo già detto però magari conviene rispondere un tipo di dato immutabile è un tipo di dato quindi un oggetto che non si può più modificare dopo averlo creato creato barra inizializzato si potranno solitamente creare delle nuove copie modificate ma l'oggetto originario rimane invariato mentre mutabile è un oggetto può essere modificato anche dopo la creazione questo è un concetto riferito riferito ai valori non alle variabili che ne fanno riferimento cioè una variabile si può sempre modificare aggiornare il valore di una variabile con un valore nuovo sempre questo non si parla neanche di mutabile e mutabile si chiama già variabile questo lo dice già lunga ma il valore puntato a una variabile può essere un valore che non può essere modificato e quindi se voglio modificare qualcosa devo fare in modo che quella variabile vada a puntare a un nuovo valore che è un po' stato ritoccato s.a per dire quindi facciamo attenzione non sono variabili mutabili mutabili ma valori tipi di dato tipi di valore tipi di oggetti ok come esempio abbiamo detto che i mutabili sono tutti i numeri interi reali stringhe duple e per il momento basta mutabili noi conosciamo le liste insiemi dizionario in realtà anche i file perché ovviamente un file lo posso modificare posso scrivere posso modificare nel contenuto quindi dei tipi di dati che conosciamo che usiamo attenzione che gli insieme a volte ci tirano in inganno perché gli insieme dobbiamo fare attenzione perché lui si l'insieme deve contenere dei valori immutabili ma lui stesso è mutabile quindi devo metterlo insieme ai contenitori mutabili quindi parlo del contenitore e non del contenuto e come vediamo effettivamente i mutabili sono tutti i dati elementari atomici i numeri delle stringhe e l'unico contenitore immutabile è quello della tupla quindi ha un ruolo un po' particolare all'interno della famiglia dei contenitori in python mentre tutti gli altri contenitori sono contenitori che sono stati definiti costruiti come mutabili principalmente per permettere di costruirli incrementalmente oppure di lavorare con gli elementi che sono al loro interno per quello che le tuple hanno un ruolo un po' a se stante quando devo congelare un dato quando devo creare delle coppie di elementi eccetera che so che non dovrò poi elaborare in seguito o rimescolare in seguito ok la 18 invece è un duplicato quali caratteristiche dobbiamo avere i valori memorizzati in insieme e elencare sia valori memorizzabili che non memorizzabili l'abbiamo già risposto quando parlavamo degli insiemi dunque per la turbuleana string sempre sulla domanda sugli insiemi dove parlava di questo questa qua è la descrizione questa parte qua risponde anche alla domanda numero 19 quindi non stiamo a ricopiarla 18 18 era perdono 19 adesso deve andare a trovare 19 lassù e convertire in 18 per fortuna è mutabile ok 17 quali sono i tipi di dato valido per gli elementi contenuti in una lista ed in un insieme e ci rischiamo quindi anche la 16 sarà uguale 16 17 16 ah per qualche motivo non so se scaramanzia o altro manca la 17 va bene diciamo che è più non essendo io scaramantico direi che è una svista semplicemente come si può fare in python a convertire una stringa in minuscolo beh questo qua è parentato il numero 15 con quello e l'altro della stringa maiuscola quindi qua scrivo semplicemente s.lower e vale valgono tutti i ragionamenti che avevamo fatto sull'apper prima 14 in python qual è la differenza tra argomenti e valori istituiti quali argomenti può avere un'indicazione di funzione quanti valori può restituire una funzione è un doppione di una domanda che avevamo già era la domanda numero si chiamava argomento 1 argomento 2 argomento 3 l'avevo scritta così era questa 39 e quindi questa qua era 14 si vede a volte la difficoltà che abbiamo di inventare domande nuove perché alla fine diciamo così si va a battere sempre sulle stesse cose 13 questa qua è un po' diversa la facciamo è possibile che in un dizionario siano presenti due chiavi associate a valori uguali e due valori associate alla stessa chiave domanda 13 domanda 13 allora in un dizionario dizionario due chiavi associate allo stesso valore associate allo stesso valore e due valori associate alla stessa chiave allora la seconda è più facile la risposta è no anzi la natura del dizionario è proprio quella di dare una chiave avere una chiave che univoca che mi mappi un valore ben specifico corrispondente a quella chiave lì se avessi già due chiavi avrei un duplicato nelle chiavi no? le chiavi le chiavi sono univoche come un set gli elementi di un insieme ok? quindi non posso avere non posso avere la stessa chiave che mi dia due valori diversi a ciascuna chiave è associato un solo valore quindi data una chiave mi da un valore ma non posso avere due chiavi uguali e quindi non potrò mai avere due valori diversi per la stessa chiave ok? attenzione che per una chiave però può essere associata ad un contenitore a un solo a un singolo valore che sia un contenitore che quindi contiene valori multipli ok? quindi se la chiave è lo studente e il valore è la lista dei voti ci sembrano quali che dicano ma guarda che quella chiave ho tanti voti quindi ho tanti valori no attenzione non hai tanti valori è un valore unico che è una lista semplicemente questa lista contiene è un contenitore e è il contenitore che contiene valori multipli ma non è dizionario ok? quindi se avevamo ad esempio appunto studente a voti di S12345 potrebbe essere appunto una lista che contiene i voti 29 30 28 30 allora non possiamo dire che alla chiave S12345 abbiamo dei valori multipli il 29 il 30 il 28 abbiamo un valore unico che è la lista ok? non confondiamo il fatto che la lista può contenere più dati ma nel dizionario questo uguale ci mette dentro un dato solo un valore solo cioè la lista mentre invece due chiavi associate al stesso valore sì non c'è problema anzi non me ne accorgo nemmeno perché non me ne accorgo nemmeno perché io posso avere una chiave qui che ha due studenti diversi che hanno stessi voti può capitare non c'è nulla di particolare non me ne accorgo perché tutte le operazioni che faccio su dizionario vanno sempre nella direzione della chiave verso il valore da un'altra chiave verso un altro valore e quindi non ho mai nulla che mi fa partire dei valori per fare cose e quindi in qualche modo non mi accorgo se avessi due valori non mi crea problemi se ho due valori uguali perché tanto non andrò mai ad accedere a un elemento di un dizionario a un item di un dizionario partendo dal valore il valore mi arriva sempre dopo come risultato finale e tra l'altro può essere di qualunque tipo quindi questo non ci crea nessun problema invece invece il contrario è praticamente impossibile se stiamo cercando di fare questo vuol dire che abbiamo sbagliato da un dizionario in un certo senso ok direi che abbiamo ancora un minuto posso visto che il 12 è un po' diverso quindi facciamo è anche veloce è facile e quindi direi che facciamo ancora il 12 per poi chiudere e salutarci si supponga di leggere un dato alla tastiera cosa succede se si usa tale dato direttamente in un'operazione aritmetica quindi mi sta dicendo che io ho un dato che leggo la tastiera e lo uso in un'operazione aritmetica x uguale dato diviso 2 cosa succede? e beh succede che è sbagliato perché dato è una stringa perché perché input restituisce sempre una stringa e quindi se voglio fare operazioni aritmetiche dovrò prima convertirlo in int oppure in float a seconda del dato che è di che cos'è ma devo prima convertirlo in un tipo numerico prima di poterci fare operazioni aritmetiche quindi numeriche sopra quindi convertire la stringa in un valore numerico ovviamente ovviamente se non da se ciò non crea eccezione se ciò non genera eccezione e genera eccezione vuol dire che il dato effettivamente non era numerico ci hanno detto hai letto un dato da tastiera ma questo dato non è numerico non ha nessun senso cercare di usarlo o di convertirlo o di obbligarlo a funzionare come se fosse un dato numerico all'interno di un'espressione aritmetica ok se volete rimango alla prima manciata di esercizi ma direi che il tempo per guardare molti sono simili di nuovo a quelli precedenti quindi direi che essendo terminato il tempo a nostra disposizione non ha neanche senso andare ancora oltre come dicevo questi esercizi probabilmente li trovate anche nei video dell'anno precedente soprattutto i primi e quindi con questo io chiudo anche questa ultima maratona di esercizi così come l'ho chiamata spero vi torni utile per l'esame e vi ringrazio tutti buona giornata grazie a tutti